La Fondazione Cariparma è di nuovo a fianco dell'azienda USL per contribuire alla crescita dell'ospedale di Vaio. Migliorare la qualità dell'assistenza e i servizi offerti al cittadino è l'obiettivo di due nuove importanti donazioni per l'acquisto di attrezzature. Sono due le unità operative interessate, l'unità operativa di endoscopia digestiva e gastroenterologia e l'unità operativa di pronto soccorso e medicina. Ancora una volta oggi presentiamo l'apporto e il sostegno della Fondazione Cariparma allo sviluppo dell'ospedale di Vaio ma direi anche allo sviluppo del sistema sanitario di questa provincia perché la crescita dell'ospedale di Vaio, le sue qualificazioni, le sue attività e l'ampliamento anche delle sue attività è parte integrante di un sistema che assicura ai cittadini della nostra provincia un servizio sanitario di alto livello. In questo caso sono due gli interventi che presentiamo. L'acquisizione di una tecnologia specifica per l'attività endoscopica una nuova attrezzatura che è unica nella nostra regione e è una delle poche in Italia che consente di individuare meglio lesioni potenzialmente tumorali e quindi di consentire ai percorsi di cura di questi pazienti un migliore e più tempestivo intervento. È un'attrezzatura che ha servizio di tutto il sistema e qualifica l'attività di screening colon retto che è un'attività importante che le aziende hanno avviato proprio per intervenire precocemente per questi tumori che rappresentano una causa importante di tumori un numero importante di tumori in Italia e anche nella nostra provincia. Screening che è costantemente promosso anche con la collaborazione di associazioni di volontariato che sensibilizzano i cittadini e sono al fianco delle aziende anche nella donazione di attrezzature. L'altro intervento che presentiamo oggi è altrettanto significativo è il sostegno al rinnovo delle attrezzature del pronto soccorso ampliato che abbiamo già inaugurato. Anche in questo caso si tratta di una donazione importante nel primo caso 113 mila euro per un'attrezzatura che ne costa 150 in questo caso 160 mila euro per un valore di 183 mila euro che ha consentito di dotare il pronto soccorso di attrezzature moderne e rinnovate e inoltre la fondazione ha riconosciuto l'importanza della conoscenza e dell'accessibilità alle prestazioni di pronto soccorso e l'importanza è che la trasparenza dell'attività del pronto soccorso sia resa ai cittadini anche attraverso un adeguato sistema di comunicazione e ci ha donato 20 mila euro per rinnovare quel sistema di informazione a pannelli che consente ai pazienti di conoscere qual è il tempo che devono attendere lo stato del loro percorso di cure nell'ambito del pronto soccorso. La fondazione Carri Parma ha voluto testimoniare anche in questa occasione la vicinanza e l'apprezzamento per il lavoro che viene svolto quotidianamente presso questo ospedale perché riteniamo sia un punto veramente importante per la comunità parmense e al tempo stesso anche la qualità del lavoro che viene svolto in questo ospedale da quando è nato da quando la fondazione aveva contribuito con gli arredi ed alcune attrezzature dell'ospedale credo che sia la testimonianza di un impegno profondo che garantisce qualità e assistenza per tante persone in difficoltà per la fondazione anche questo intervento va nella direzione di essere vicine alle persone che si trovano in situazioni di fragilità in questo caso per malattia o per situazioni di urgenza come per il pronto soccorso e crediamo che sia le strumentazioni sia gli spazi che sono stati garantiti attraverso questo intervento che possono essere di aiuto per migliorare le condizioni delle persone che vengono in ospedale che devono trovare assistenza, cura e anche rapporti umani adeguati in un momento di difficoltà il vantaggio indiscusso dell'utilizzo di un colonoscopio fuse è confermato anche da recenti studi che evidenziano come la percentuale di adenomi non diagnosticati con l'impiego di fuse si riduca dal 43 al 10% migliora quindi anche la qualità del programma di screening per la diagnosi precoce dei tumori al colon retto avremo a disposizione qui all'ospedale di Vaio un sistema rivoluzionario caratterizzato da delle sonde endoscopiche con tre telecamere a dispetto dell'unica telecamera dei colonoscopi tradizionali che aumenta il raggio di azione e di sguardo all'interno dell'intestino dai 170 gradi a quasi una visione a 360 gradi questo sicuramente porterà a un netto miglioramento della qualità di cure offerte alla nostra utenza proprio attraverso la capacità di diagnosticare con maggiore precisione queste lesioni all'interno dell'intestino indubbiamente parliamo al tumore del colon retto di una malattia che purtroppo rappresenta il tumore più frequente nel nostro paese anche con ancora una mortalità molto elevata e questo indubbiamente è una cosa particolare perché ci troviamo di fronte comunque a una malattia che ha generalmente una storia evolutiva lenta di diversi anni che quindi consente delle efficaci strategie di prevenzione le armi che abbiamo a disposizione per prevenire questa malattia sono la prevenzione primaria che direi parte da tavola perché sicuramente parliamo di una malattia che si previene attraverso uno corretto stile di vita infatti oggi non c'è più discussione sul fatto che una dieta particolarmente ricca di carni rosse di grassi animali di tipo saturo e viceversa povera di grassi polinsaturi quelli contenuti negli oli di carni bianche pesce frutta e verdure si associa a un aumentato rischio di sviluppare questa malattia quindi l'obesità e tutto quello che può portare a una dieta ipercalorica sono sicuramente il primo modo per cercare di ridurre l'incidenza di questa malattia indubbiamente l'altra arma fondamentale per la prevenzione è quello dello screening cioè la prevenzione secondaria cioè di andare a cercare nella popolazione quelli che possono essere i segnali premonitori di questa malattia è per questo che nella provincia di parma da ormai dieci anni è attiva una campagna di screening che si basa sulla ricerca del sangue occulto nelle feci e la conoscopia nei casi positivi che possiamo dire alla data odierna ci ha consentito di ridurre la mortalità per questa malattia sicuramente i familiari di primo grado che hanno avuto questa malattia danno al prossimo discendente un aumentato rischio per motivi genetici quindi di conseguenza noi direttamente consigliamo a questi familiari che hanno avuto parenti con questa malattia di sottoporsi direttamente a una colonoscopia di controllo a partire dal cinquantesimo anno di età dubbiamente la una delle fortune tra virgolette che ci offre questa malattia è che è sempre preceduta da un precursore benigno i cosiddetti polipi che nel corso degli anni possono trasformarsi in tumori fortunatamente solo il 10 per cento di questi polipi può andare incontro a una trasformazione ed è quindi questo il nostro sforzo di cercare di individuare questi polipi perché la loro asportazione ci consente di fatto di bloccare quella sequenza che nel corso degli anni può portare alla formazione del tumore la colonoscopia oggi la introduzione di questa sonda all'interno del retto e va a esplorare l'ultimo metro e mezzo di intestino cioè il colon dove sono più frequentemente sede queste malattie è indubbiamente l'esame più preciso e di riferimento oggi che noi abbiamo a disposizione direi che è anche uscito questo esame un po' dall'alone di paura di esame pericoloso e doloroso e di fatto oggi abbiamo delle strumentazioni che hanno una precisione quasi microscopica e ci consentono quindi di vedere delle lesioni ancora in maniera molto precoce e quindi di determinare la guarigione nella quasi totalità dei casi l'endoscopia la colonoscopia tra l'altro oltre a permetterci delle diagnosi molto raffinate ci consente anche in un tempo unico di trattare queste lesioni cioè di passare direttamente alla fase terapeutica come per esempio l'asportazione dei polipi che oggi vengono fatti in maniera completamente ambulatoriale in un tempo unico anche la preparazione che deve necessariamente essere effettuata il giorno prima per pulire l'intestino oggi viene effettuata mediante delle soluzioni a basso volume che quindi consentono il paziente agevolmente di pulire l'intestino senza particolari sacrifici e ormai in maniera ubiquitaria l'utilizzo di farmaci durante la procedura consentono di fatto praticamente di abolire il discomfort e il fastidio a questi pazienti quindi diventando un esame alla portata di tutti e riducendo in maniera molto trascurabile quelli che possono essere i rischi legati alla procedura la colonoscopia sicuramente in un soggetto in cui sono stati asportati dei polipi va ripetuta nel tempo perché dimostrato che queste persone possono avere una maggiore frequenza di recidiva e quindi questi polipi si possono riformare chiaramente questo dipende dalle caratteristiche del polipo perché chiaramente polipi adenomatosi con una componente di displasia significa che sono polipi più a rischio e quindi vanno controllati rispettivamente uno tre o cinque anni oppure ci sono anche dei polipi che noi chiamiamo iperplastici che non hanno nessuna capacità evolutiva e come tale quindi una colonoscopia anche ogni dieci anni è sufficiente come controllo soprattutto nei soggetti di familiari che hanno avuto familiari che hanno avuto questa malattia è la colonoscopia è l'esame di riferimento e andrebbe eseguita dieci anni prima dell'epoca in cui il familiare ha contratto una malattia come il tumore del colon il contributo di fondazione cari parma interessato anche il nuovo pronto soccorso recentemente inaugurato dopo l'ampliamento e la ristrutturazione 160 mila euro sono stati destinati infatti ad implementare con idonee attrezzature l'unità operativa che ha raddoppiato la sua superficie passando da 500 metri quadrati a circa 1200 e che oggi conta su percorsi maggiormente appropriati per ciascun livello di gravità il nostro pronto soccorso è stato recentemente oggetto di lavori di ristrutturazione ed ampliamento che ne hanno permesso una nuova allocazione quindi sono stati ristrutturati gli spazi del vecchio pronto soccorso e il pronto soccorso è stato ampliato in nuovi spazi quindi i suoi locali sono stati praticamente raddoppiati siamo passati da una logica di tipo ambulatoriale in spazi ristretti a una logica più performante di open space e di suddivisione di ambienti per aree suddivise in base al codice colore di triage quindi in base alla filosofia assistenziale dell'intensità di cura questo richiedeva un passaggio importante anche in senso di trasformazione tecnologica e di dotazione tecnologica quindi in un momento eccezionale abbiamo pensato di far ricorso alla fondazione cari parma presentando a loro un progetto di riqualificazione e dotazione tecnologica sia per quello che riguardava le attrezzature sia per quello che riguarda il modello di comunicazione con l'utenza e cari parma ha risposto in modo affermativo ha capito il nostro progetto e tramite il loro intervento siamo riusciti a dare una risposta tecnologica soddisfacente al pronto soccorso il nostro corso